Buonasera a tutti, sono Fulvio Gatti, giornalista, scrittore di tante cose diverse e questa sera ho il piacere di tornare qui al Festival della Scienza di Settivo Torinese portando tre ospiti con i controfiocchi. Quando Dario mi ha detto che il tema sarebbe stato la mente, ho detto ok, possiamo creare un piccolo gruppo interessante per fare una chiacchierata e quindi andiamo in ordine da quella che vedo più vicino. Allora, no, alla rovescia, scusate ce la posso fare. Per prima, visto che il ragionamento parte da qui, parte dai 18 anni di un romanzo che è stato uno dei più grandi best seller della letteratura italiana contemporanea. Io uccido di Giorgio Faletti ed è un piacere avere con noi Roberta Bellisini-Faletti. Essendo la prima puoi anche scegliere postazione e microfono. Per tenere il discorso duplice di scrittura ma anche con una componente scientifica, questo è un Festival di Scienze e Innovazione, anche una parte scientifica di commento su ciò che, i fatti di cronaca, come funzionano le indagini e dintorni, ho pensato di coinvolgere una scrittrice, che è una criminologa, che è Cristina Brondoni. Che è anche una maschera molto in stile. Molto fantascientifica. Sì, fa molto guerre stellari. Amici di tutto rispetto. E ho tenuto per ultimo, perché è l'unico maschietto del gruppo, me escluso che sono moderatore, sceneggiatore di Dylan Dog, una delle più importanti voci del fumetto horror e fantastico contemporaneo, e anche lui di zona, Andrea Cavaletto. Che non può scegliere la sedia, ma... Però io il meraviglioso sbaglio. La sedia rossa mi piace. Ai confini della mente. Questo Festival vedo sbirciando sui social, che sta andando avanti con molti, molti spunti interessanti. Questa sera, come dicevo, ripartiamo da un romanzo. Quando qualcosa, un successo così stratosferico, 5 milioni di copie, io uccido, giusto? O di più? Forse a un certo punto si è smesso di contarle. Comunque sicuramente 5 milioni di copie. 18 anni fa, Giorgio Faletti esordì come scrittore. In realtà aveva già altre pubblicazioni, aveva già una carriera artistica di tutto rispetto. Emersa alla ribalta con questo, io uccido. Un thriller, un noir. Quando qualcosa arriva a così tante persone, ci si fa i conti. Fa i conti con l'immaginario contemporaneo a cui attinge e che in qualche modo influenza. Roberta, tu sai perché Giorgio decise di esordire, scelse esattamente quella storia, quello stile? Come mai in un repertorio già vasto che aveva attingeva all'ironia le canzoni, scelse di individuare una nicchia che trasformò in un successo di massa? Allora, premetto, e mi fa piacere dirlo in questo posto perché siamo in una libreria, in una biblioteca, tra l'altro in una delle biblioteche più belle del Piemonte, ci tengo a dirlo. Infatti sono molto invidiosa della vostra biblioteca. Ci tengo a dire che innanzitutto Giorgio era un grandissimo lettore e questo secondo me è molto importante. Lui ha sempre letto da quando era ragazzo, poi nel corso degli anni chiaramente si è appassionato a generi letterari differenti a mano a mano che cresceva. Negli ultimi, diciamo, negli ultimi vent'anni si era molto appassionato alla scrittura thriller degli scrittori americani. Lui amava molto Jeffrey Dever, Michael Connelly e quindi io credo che innanzitutto, forse in maniera assolutamente inconscia, lui avesse metabolizzato anche il metodo di scrittura, la struttura dei romanzi americani. Quindi penso che sicuramente non è stata una scelta a tavolino, anche se in quel periodo in Italia forse mancava un po', ecco, tra gli scrittori italiani mancava un po' quel tipo di genere narrativo. Ma lui lo scelse proprio perché era il genere che più lo appassionava ed essendosi poi appunto avvicinato molto a questi scrittori penso che sia venuto proprio poi naturale per lui scrivere un noir, un thriller, anzi, come Io Uccido. E poi, vabbè, la scelta della location... Monte Carlo è stato scelto per due motivi. Primo perché era una località che lui conosceva bene perché aveva vissuto circa 5-6 anni a Monte Carlo e quindi era un posto che conosceva molto bene, aveva poi importanti amicizie all'interno di Radio Monte Carlo come Luisella Berrino che è stata voce storica o Maurizio Di Maggio, insomma, aveva tanti amici all'interno della radio. E poi perché effettivamente non era mai stato ambientato un thriller in un posto come Monte Carlo. Quindi l'idea di prendere una situazione come quella dove sembra che tutto sia perfetto, no? Cioè, Monte Carlo, vabbè, presumo possa anche non piacere, però è una situazione che nell'immaginario collettivo dire sono stato a Monte Carlo o vivo a Monte Carlo sicuramente fa un certo effetto. E quindi l'idea di andare a scompigliare un po' questa perfezione del Principato di Monaco, lui che è sempre stato un po' un provocatore, sicuramente questa cosa l'ha stimolato molto. Parlando di immaginario collettivo, c'era nell'aria, attraverso il cinema americano sicuramente, cinema narrativa, una figura, un certo tipo del thriller e una figura archetipica che stava emergendo, che era quella del serial killer, che è l'elemento centrale di Uccido. Anche se poi, ovviamente, il serial killer rompe l'ordine, ma c'è un detective. Guardava anche un po' al passato, Giorgio, cercava anche di ritrovare delle radici di generi come l'arboil. L'arboil, sì, è un altro genere che, tipo Mike Spillane era stato un altro grande autore che lui aveva letto con gran piacere, quindi effettivamente hai ragione nel dire che aveva messo all'interno di Uccido tutto quello che gli piaceva di più, quindi il genere letterario. Poi ha inserito anche la musica, che per lui è sempre stato un ambito importantissimo, infatti poi si è dedicato anche a una parte della sua carriera, si è focalizzata anche nell'ambito musicale, e quindi ha messo tutto quello che gli piaceva di più, insomma. Certo. Io so che Cristina Brondoni, essendo molto precisa, perché analizzi persone e situazioni per lavoro, esatto. Hai fatto i compiti. Ho fatto i compiti. L'hai anche portato, fantastico. Non soltanto l'ho portato, ma l'ho studiato. In un'edizione da miopi questa. Mi preoccupano. Sì, infatti devo dire la verità che... Quei post-it che fuoriescono, quelle mi preoccupano. No, invece no. Allora, io in realtà l'avevo letto appunto ormai quando ero giovane, si può dire, no? Quindi un milione di anni fa l'avevo letto e però ho detto, vabbè, lo rileggo, perché insomma, voglio dire, probabilmente cambia anche, non soltanto cambia l'epoca, ma cambiamo anche noi. Rileggendolo chiaramente ho notato che la parte appunto hard-boiled, devo dire, che rileggendolo in questa chiave sicuramente è proprio quello. La musica certamente è importante, ma la domanda invece che io ti faccio è, ha fatto parecchia ricerca su quello che era la parte crime? Perché si vede proprio che racconta, chiaramente nel 2002, quindi le scienze forensi cambiano addirittura da sei mesi in sei mesi, fortunatamente. Adesso la frontiera del DNA è quella addirittura di dire da una traccia se quello ha il viso tondo oppure no. Quindi siamo già avanti, no? Però l'idea era proprio che sembra quasi che ci sia una ricerca dietro, perché se da un lato è molto fiction, dall'altro c'è un fondamento scientifico non indifferente. Sì, hai colto proprio una cosa importante del lavoro di Giorgio, e cioè che lui nel momento in cui si approcciava a scrivere in particolar modo di thriller, di serial killer, di omicidi, per lui era importante proprio la ricerca. E poi approfittando anche del fatto che era già un personaggio noto, quindi per lui presentarsi in una questura di polizia, o da un famoso anatomopatologo, e dirgli buongiorno, sono Giorgio Fallitti, sto scrivendo un thriller, mi può dare delle dritte? Insomma, gli venivano aperte tutte le porte. E quindi non ha avuto difficoltà, insomma, a fare proprio una ricerca scientifica. Aveva frequentato, ecco, era stato ad esempio anche, mi sembra, la sede dei RIS di Parma. Cioè, aveva fatto tutto un giro per cercare di trovare tutti i punti che ovviamente non conosceva e che gli servivano per rendere credibile la storia. Perché una cosa importante è che i lettori dei thriller sono pazzeschi, ma ne sanno più veramente, cioè, sono precisissimi, attentissimi, sono degli scienziati, sono. Quindi se tu provi a raccontare una cosa, non dico falsa o sbagliata, ma anche solo simile, ma non troppo, cioè, poi ti scrivono, perché poi c'era il blog della casa editrice, per cui arrivavano proprio degli appunti pazzeschi. E lui questo lo temeva perché non voleva essere, insomma, additato come quello che scriveva una cosa non precisa. Per cui per lui la ricerca proprio era importante. Infatti, in tutti i suoi libri, nella pagina dei ringraziamenti, si vede sempre che sono presenti proprio delle professionalità alle quali lui si è rivolto per le sue ricerche. Quindi Franco Ottobre è un buon detective, col senno di poi. Franco Ottobre fa degli errori, nel senso, è un buon personaggio perché fa degli errori. Come sempre. Per rendere interessante la storia e anche l'indagine. Esatto, perché normalmente quando leggiamo i thriller c'è il detective fighissimo, che sa tutto lui, fa tutto lui, non sbaglia mai. E persino anche un po' antipatico, cioè diciamola tutta, risulta poi anche un po' antipatico, se è troppo perfetto. Non dico di star nutire sulle prove, per l'amor del cielo, però insomma, un minimo. Adesso come adesso star nutire sulle prove, è un casino. Adesso proprio star nutire in generale è un problema. Esatto, esatto. Aprerebbe un sacco di scenari. Esatto. Allargarai il discorso perché dicevo, la figura del serial killer, che in qualche modo negli anni 2000, nella sua, era estremamente popolare pur nella sua crudeltà, non saprei neanche come definirla. Andrea Cavaletto, tu che ne sai di horror, il serial killer è un uomo lupo, è una cosa senza nome, è qualcosa che affonda nelle radici dell'horror e ne è un'espressione moderna, o secondo te invece è qualcosa di completamente diverso, che è maturato con... Ma guarda, come quasi dato di fatto, sì, il serial killer è diventato un po' la componente di un certo tipo di horror superati, sì, gli anni 90. Dopo gli anni 90 io sono appunto un appassionato di horror, l'ho masticato horror fino a quando ero bambino e c'è stato proprio questo cambiamento totale di prospettiva nel campo dell'horror. Fino a un certo punto un film horror o comunque un libro horror era definito così perché c'erano degli elementi soprannaturali che spaventavano, quindi c'era la casa stregata, c'era il mostro della palude, c'erano gli alieni che venivano da chissà dove, le mutazioni di qualche casino che avevano fatto gli scienziati, eccetera. Però c'era sempre... Questi elementi erano tutti insieme e cominciava già a diventare un film dell'asylum, anticipava il tempo. Ecco, bravo. Hai citato l'asylum, l'asylum per chi non lo sapesse è una casa di produzione americana specializzata in movie, in film, molto 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 di bassissimo budget ma anche di bassa qualità. Però mai definiti serie Z, perché la serie B non basta. E B-movie. Adesso questo B-movie serie Z non si usa neanche più tanto, però ci siamo capiti, sì, erano esattamente, ma volutamente fatti così, con degli effetti speciali fatti al computer che probabilmente mio nipote riesce a farli meglio. Vabbè, il tipo tono rappresentativo si chiama Sharknado. Sharknado, Sharknado è il loro principale. Squali e Tornado. Squali e? Tornado. Un Tornado che prende degli squali dal mare e li butta su una città. Sono ancora ovviamente vivi, volano, mangiano le persone. Cose realisticissime. Io ero rimasta la pioggia di rane in... In Magnolia. 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 Citata anche in un mio di Landon. Esatto. Intitolato appunto Piero Navarro. Però per non perderci il filo, perché poi io sono uno che si perde tranquillamente, quindi se mi aiutate, grazie. L'Azylum oppure... L'Azylum ha fatto di questo horror, che negli anni 80-90 era un horror serio, ha fatto il loro cavallo di battaglia, perché adesso, adesso come adesso, un film con mostri difficilmente fa paura. Perché forse nel frattempo è arrivato Il Silenzio dei Neocenti. Perché nel frattempo è proprio cambiato il gusto degli spettatori nei confronti di un certo tipo di horror. Adesso, se vuoi fare un horror che faccia un po' impressione, che faccia un po' paura, che venga considerato serio, c'è, deve essere un serial killer. Per forza. Cioè, non mi viene in mente forse rarissimi casi di horror con creature particolari che facciano paura. Di solito questo tipo di orrore qua adesso è declinato in quello che si chiama horror demenziale. Quindi un horror che si prende un po' in giro. Non ci crede neanche chi lo fa, ecco. Così lo spettatore va, si fa quattro risate, poi lì abbondano le scene gore, un sacco di budella sparse. Però tanto il sangue assecchiato e non fa così impressione, non fa paura, quindi ci puoi mettere di tutto. Ecco, forse, scusa se mi intrometto, ma mi piace, mi sembra una chiacchierata tra amici, quindi mi piace. Ecco, forse è rimasto l'ambito di film tipo l'esorcista, ecco, che forse può ancora, perché è legato a una sfera che esula un po' dalla realtà, perché non sappiamo... Tu dici anche gli cloni dell'esorcista, quindi l'esorcismo di Emily Rose, eccetera. Quello a che fare con un mondo che in realtà ci insegnano che c'è, un inferno c'è, i diavoli ci sono, i demoni ci sono, perché la chiesa... Questi film qua ti assicuro che sono pochi, perché ti potrei citare quel film Ninja vs... l'esorcista ninja, qualcosa del genere. Veloci Pastor, il meraviglioso Veloci Pastor, un pastore che è anche un Veloci Raptor. Esatto, sì, sì. Oppure un sacco di altri film dove anche lì, ahimè, l'esorcista non viene così preso... Ma lì abbiamo sbordato clamorosamente nel trash, questo non è più... Sì, addirittura qua stiamo parlando del trash, però in generale, ecco, mi ricordo, se posso dire, Rack, che faceva proprio paura, e c'erano... Però anche lì, non sono dei veri e propri mostri, cioè non c'è il mostro con le squame, eccetera. Sono delle persone che sono infetti, sono degli infetti che sono... sembrano dei folli, parliamoci chiaro, sono delle persone che non sai che cosa fanno, sono lì claudicanti e poi aggrediscono le persone e se le mangiano, sono una variante di zombie, ecco. Un'altra cosa che è intramontabile sono gli zombie, ma gli zombie sono di nuovo molto umani comunque, cioè, come aspetto, non è un qualcosa di così estremamente distante da noi. Si è un po' perso questo tipo di orrore, quindi il serial killer proprio la fa da padrone, cioè, sono lunghissimi, c'è una sfilza lunghissima di horror dichiarati con serial killer, quindi, dove ovviamente quasi sempre, a differenza del silenzio degli innocenti, che invece è considerato thriller, si predilige la componente sadica del serial killer, quindi quella più splatter, quella più violenta e un po' meno quella psicologica. Quindi, sì, per forza di cose, tornando alla domanda che mi hai fatto, secondo me, sì, il serial killer oggi come oggi è considerato assolutamente un'icona del cinema e della letteratura horror moderna. Per venire alla seconda parte dell'autodomanda, cosa ne penso io? Cosa ne penso io? Lo dico in Doll's Syndrome, il mio romanzo, che è tratto dalla sceneggiatura del film, omonimo, e il mio punto di vista è assolutamente quello del serial killer, in questo caso non è neanche un serial killer, è più uno schizofrenico che poi diventa stalker, però non serial killer, ma comunque il mio punto di vista è visto dall'occhio, dall'ottica del mostro, perché in questo caso è comunque un mostro. Non ne prendo le parti assolutamente, né nel film, né tantomeno a maggior ragione nel romanzo che ho scritto, infatti è scritto come fosse un diario, perché è tutto incentrato su di lui, però è visto in terza persona. In terza persona perché? Perché essendo il mio personaggio, un individuo che non prova nulla, cioè non ha emozioni, non volevo scriverlo in prima persona perché sarei caduto nella trappola di metterci sicuramente qualcosa di mio, magari qualche frase sbagliata, invece in questo modo è come se io avessi una telecamera, gliela punto addosso e lo seguo momento per momento in un pezzo importante della sua vita. Quindi non sto dalla parte del serial killer, però in qualche modo in questo ma in tante altre mie opere cerco di definirlo il più possibile a livello psicologico. Poi ci sono anche le feratezze. Perché l'orrore è anche qualcosa che in genere cerchiamo dentro, dobbiamo cercare dentro di noi e se lo vediamo, se abbiamo il coraggio di guardarlo, a volte lo combattiamo. Assolutamente sì, cioè io sono straconvinto ed è la base di ogni cosa che scrivo che non esistono, non esiste il bianco e il nero, cioè dentro ognuno di noi c'è il lupo buono e il lupo cattivo, tornando a quella leggenda indiana che è stata anche citata in Curon mi sembra, però è vera, cioè dentro ognuno di noi ci sono questi due animali e dipende da quello che noi, cioè chi è che, quale di questi due è il sopravvento, quello che noi nutriamo di più, quindi sta a noi, però non credo molto in quelli che dicono di essere assolutamente perfetti, ecco. Tra l'altro questa è una leggenda che anche Giorgio cita fuori da un evidente destino, un libro ambientato tra gli indiani d'America, bellissima. Sì, a Monte in questo caso anche il filo conduttore è un certo modo del cinema americano, della letteratura americana di guardare il male, di guardarlo negli occhi per riuscire a raccontarlo. Però, Cristina Brondoni, rassicuraci un pochino. No. No? Ok. Ma non hai ancora sentito la domanda? Allora, ma io non rassicuro in generale. Ah, no, non rassicuro, ok. C'è una che va in gioco. Ok, ok, ok. In realtà io quello che volevo chiederti è l'impatto, allora la figura del serial killer al di là dell'impatto sull'immaginario. Sulla cronaca nera è una percentuale minima? Sì, allora, secondo una stima, una statistica delle Nazioni Unite, le possibilità di cadere vittima di un serial killer sono dello 0,0039%. Ok, questo un po' ci rassicura. Vedi che è rassicurante alla fine. Sono molto rassicurante, ma... Ma? Ma? Allora, ma, effettivamente il problema qual è? Che il serial killer funziona bene dal punto di vista fiction e dal punto di vista della cronaca, chiaramente, perché fa tante vittime, perché è proprio un qualche cosa di ancestrale, questa paura di questo mostro. La cosa che deve fare ancora più paura, tra l'altro faccio un podcast e siamo state criticate io e Sara Uslenghi che è l'amica e giornalista con cui faccio il podcast, perché io ho detto che Ted Bundy, serial killer che è stato giustiziato per aver ammazzato 35 persone, ma sicuramente ne ha ammazzate di più, era un figo. Ma è vero, cioè, il dramma è che Ted Bundy ha potuto ammazzare continuamente perché era un figo, cioè, io stessa sarei stata una delle vittime anche pettinata un po' così, un po' da famiglia menso, cioè, sarei stata una delle vittime perché questo si presentava con un falso braccio ingessato, quindi lui stava benissimo ma si era fatto fare un gesso e chiedeva, ma neanche chiedeva aiuto, si faceva vedere un po' in difficoltà mentre caricava sul suo maggiolino Volkswagen la tavola da surf, bello come il sole, lui, ed era lì un po' in difficoltà, cioè, Ted, ti do una mano, non c'è problema, e chiaramente la gente finiva morta male, il problema è proprio questo, che nella... è vero, cioè, tu dici che ti hanno detto... Sì, hanno detto che siccome ho detto che era figo... Però è riconosciuto che lui era affascinante. Hanno chiamato il Moige, nel frattem subito, immediatamente. Però è riconosciuto che era un affascinante, infatti riusciva ad arrivare alle vittime anche per quello, se fosse un po' che prendeva vittime... Tutte forme magari... Esatto, prendeva vittime a basso rischio, cioè la vittima ad alto rischio è per esempio chi vive per la strada, chi non ha delle relazioni stabili, chi non ha un lavoro, quindi quelle persone che si scompaiono, ora che ti accorgi che sono scomparse, passa molto tempo, o comunque non c'è nessuno che faccia la denuncia. Ted andava a prendere quelle persone che avevano una famiglia, addirittura, nello stesso giorno, ne ha ammazzate due, ed era un 4 luglio al lago, quindi in mezzo alla gente. Perché? Perché nessuno si è accorto che questa ragazza o queste due ragazze hanno seguito quest'altro che sembrava che facessero quattro chiacchiere e sali in macchina. Ok? Erano anche altri tempi, altri modi, nel senso che ovviamente negli anni 70, scusa dammi una mano, sali in macchina, si va bene. Quindi probabilmente c'era una soglia di preoccupazione, una, come si dice, una percezione del rischio assolutamente inferiore ad adesso. Però ultimamente il 20 di agosto è stato condannato Joseph De Angelo, che è il Golden State Killer, per reati commessi, per omicidi commessi tra il 76 e l'81. Lui poi ha, improvvisamente, non si capisce perché, nel senso che adesso è stato condannato, glielo chiederemo, ha smesso di uccidere, fine, ha continuato a vivere la sua vita normalmente e se ne sono accordi perché hanno fatto una prova, avete presente i kit del DNA, quelli per risalire all'albero genealogico? Quelli che tu fai il test e ti dicono, mio marito l'ha fatto, dice sei norvegese. Va bene, cioè d'accordo, ci fidiamo, no? Tu sei un serial killer. Esatto. No, è uscito che a uno dei detective è venuto in mente di usare i dati del DNA in queste banche date privati, ok? Ha chiesto il permesso di mettere il DNA che loro avevano delle scene del crimine e è andato a compararlo e si sono accorti che di tutti quelli che hanno fatto il test c'era un secondo cugino, cioè un qualcuno che sembrava essere un secondo cugino. Hanno recuperato questa persona, sono risaliti a tutto l'albero genealogico ed erano imparentati per nonna paterna e a questo punto risalendo, risalendo, risalendo sono arrivati a Joseph De Angelo e quando gli hanno detto ok ti arrestiamo perché ovviamente hanno dovuto prendergli un campione del DNA e l'hanno fatto spolverando la maniglia dell'auto dove stava entrando, quindi hanno preso il campione così, a quel punto lui ha detto sì va bene ero io ed è stato provato appunto che... A quanti anni di distanza dall'ultima vittima? L'ultima vittima è stata random nell'86 ed è stato condannato, l'hanno trovato, hanno scoperto questa cosa nel 2017, l'hanno trovato nel 2018 e il 20 agosto del 2020 c'è stata la sentenza, il processo è stato tutto durante il lockdown quindi forse non avete visto, non c'era la cronaca perché avevamo altri problemi quindi... Ok. Però è interessante. In tutto questo mi interessa soprattutto sapere che cosa gli ha fatto cambiare strada. Che cosa l'ha fatto smettere? È interessante. Non l'ha detto. Eh infatti questa secondo me... Si è trovato un hobby. cioè la cosa che tu... È una fase della sua vita. mi incuriosisce perché... Il martedì uccidi, il mercoledì smetti. Ma pensa che tra l'altro ho fatto la statistica perché ho visto appunto era pubblicato su Los Angeles Times era pubblicato le date in cui ha fatto le violenze era uno stupratore seriale stupratore sono sempre seriali così come i ladri eccetera e c'erano pubblicate le date ed è incredibile perché lui sembrava avere dei picchi il sabato e il martedì tra l'altro sposato con tre figli e la moglie ha detto no io... Il sabato è una brutta giornata ma il martedì... Infatti e dei serial killer e John Wayne Gacy c'era il vicino di casa che diceva ma no era una brava persona salutava sempre buongiorno e buonasera lo dicono di tutto lo dicono sempre classico forse diceva che al martedì aveva magari la serata di carte con gli amici invece aveva un altro hobby infatti la moglie pensa che ha detto gli ha chiesto vai ma signora Sharon scusi lei ma non si è accorta dice ma io cioè pensavo che fosse dove diceva di essere beh certo uno mai più si immagina di avere un marito serial killer quindi adesso mi incuriosce mi sta tradendo no al limite proprio al peggio invece peggio adesso parlavi di Ted Bundy e del fatto che fosse un belloccio tra l'altro mi è venuto anche in mente ne ho un ricordo un po' sfocato ma ad esempio anche Jeffrey Dahmer non mi sembrava un brutto ragazzo che era il mostro di Milwaukee bravissima mi sembrava anche lui un bel ragazzo tanto è vero che c'è stato uno dei ragazzini che è riuscito a scappare una delle sue vittime è riuscito a scappare in strada tra l'altro un 14enne di origine filippine e ovviamente parlava abbastanza male l'americano è scappato in strada due signore madre e figlia l'hanno vista hanno chiamato la polizia e ovviamente invece è arrivato Jeffrey alto, bello, biondo con gli occhi azzurri soprattutto bianco il ragazzino era filippino le due signore di colore i poliziotti gliel'hanno riaffidato ovviamente l'ha ammazzato poco dopo uno dei due poliziotti se non è rossi è poi suicidato quando poi l'hanno preso perché insomma voglio dire comunque è andato avanti a uccidere tranquillamente parte del problema dei serial killer proprio questa il fatto che come dici tu sono normali nel senso che sì poi da casa di Jeffrey Dahmer usciva puzza di cadavere quando hanno intervistato i vicini hanno chiesto ai vicini ma la puzza di cadavere però era una persona carina gentile salutava sempre esatto ok quindi insomma di fidare dei belli che salutano sempre esatto esatto meglio non salutare mai spostandoci un pochino più in là riguardo a mostri ma forse mostri in un forse percepiti come più puri la ragazza che fissava l'acqua è il libro di Giorgio uscito all'inizio di quest'anno fine dell'anno scorso sì in realtà era già uscito con una piccola raccolta faceva parte di una raccolta di corti di carta mi sembra del Corriere della Sera forse vado un po' a memoria perché è un po' vecchiotto e quindi faceva parte di quella raccolta e poi è stato ripubblicato recentemente per la nave di Teseo e la voce narrante la ragazza che fissava l'acqua è diciamo la protagonista il personaggio più attivo ma c'è una voce narrante che è in un certo senso piuttosto laterale un mostro senza dire troppo però è qualcuno che si nasconde e guarda l'umanità forse Giorgio cercava e anche qualche elemento favolistico lì ci sarebbe in un certo senso per non dire più nient'altro della trama del libro in sé possiamo dire che è un po' anticipata la forma dell'acqua di Guillermo del Toro eh sì effettivamente sì hai ragione adesso non avevo fatto questo collegamento con il film la forma dell'acqua però in un certo senso è una storia che molto affine a quella forse guardava un po' quel tipo di soprannaturale quel tipo di creature alle immargini della società forse Giorgio stava cercando di raccontare un certo fantastico una certa ricerca di individualità di personalità più pura più naturale sì ho anche secondo me io credo anche che volesse raccontare attraverso una un racconto come quello che hai citato il diverso il diverso che può subito istintivamente ciò che non conosciamo ciò che è diverso da noi istintivamente ci fa un po' paura e forse quello era un po' un modo per raccontare il diverso che in realtà se si rompe questa barriera cioè se si ha il coraggio di provare ad andare oltre quindi di provare a indagare a vedere che cos'è questo diverso poi in realtà ci rendiamo conto che non è un diverso che ci deve atterrire che ci deve spaventare ma anzi è un diverso che ci regala delle emozioni che ci regala col quale confrontarci che può anche farci crescere e quindi io penso che soprattutto lui intendesse quello su questo sono costruite basi interne di letteratura fantastica anche andando a finire nella fantascienza gli alieni e tutto questo ma c'è un personaggio particolarmente influente per l'immaginario italiano che si chiama Tiziano Sclavi che diceva io sono i mostri e qui passo la palla Andrea Cavaletto che Dylan Dogg l'ha scritto e continua a scriverlo e come la vedi come l'ha interpretato questa frase di quando chiedevano a Tiziano Sclavi se lui si identificasse con Dylan Dogg a parte il fatto che su molti elementi lui era era ed è Dylan Dogg per abbigliamento per una serie di scelte ma lui poi quando gli chiedevano con chi si identifica lui diceva io sono i mostri come la interpreti tu questa? la interpreto nel senso che effettivamente la cosa che colpisce della scrittura di Sclavi una delle cose che colpiscono a me non mi avevano colpito della scrittura di Sclavi è proprio questo suo modo di trattare i mostri cioè anche il mostro più efferato delle storie di Dylan Dogg aveva un background che te lo faceva risultare non dico simpatico perché è sbagliato però ti faceva provare empatia per quell'essere ma prendiamo per esempio il ritorno del mostro proprio che è uno dei primi numeri di Dylan dove tra l'altro non c'è un mostro appunto squamoso ma l'assassino c'è un assassino c'è un killer e infatti quell'episodio voleva essere l'omaggio di Sclavi a un certo tipo di cinematografia che era quella di venerdì 13 piuttosto che non Halloween eccetera quindi aveva creato anche lui il suo chiamiamolo serial killer e niente nella storia si prova estrema pietà ecco pietà per questo per questo per questo mostro poi ci sono vari colpi di scena che non sto non sto svelare anche se è un fumetto vecchissimo che cosa ti è rimasto tra le dita di scrittore di del Tiziano Sclave di Dylan Dog quando poi l'hai scritto tu e poi scrivendo i tuoi personaggi come William Boyd para Daniel Boyd guarda sicuramente qualcosa non ti so dire che cosa però è stata un'influenza fortissima per me perché lo sapevo a memoria di Dylan Dog quando ero un ragazzino quindi lo studiavo proprio c'è Sclavi c'è Barker che ho adorato molto più di King e quindi c'è un po' di questi di questi autori in quello che scrivo però non è studiato ecco un complimento che mi è stato fatto non so neanche se è un complimento ma credo di sì dai vari critici che hanno tu dici poi vediamo se poi giudichiamo no l'hanno detto positivamente quindi no perché ci sono quegli autori che quando dicono ah somiglia oppure si arrabbiano e fanno gli offesi io no quindi va bene no hanno detto che appunto Doll Syndrome ricorda i primi romanzi di Sclavi come stile di scrittura e boh tanto di cappello perché cioè per me è veramente un complimento ma non era assolutamente ricercato non era voluto non era c'è c'è rimasto qualcosa dentro e io stesso trovo tante affinità in con il personaggio di Dylan e quindi diciamo che faccio meno fatico a scrivere Dylan Dog che non magari un Dampir per dire perché sono due personalità completamente diverse e ecco credo che un autore quando si approccia a un personaggio che non è suo abbia un po' più di facilità nonostante sicuramente serva prima di tutto la professionalità e l'esercizio eccetera però se il personaggio che deve scrivere ha delle affinità con l'autore è un po' più facile quindi non vi dico la fatica a scrivere text al momento un'unica storia che ho scritto di text perché siamo proprio agli antipodi non è tanto il genere è vero io sono più sull'horror ma non è quello il problema cioè mi sono anche trovato a scrivere parecchio altro è proprio il personaggio che mi chiamava Boselli che era l'editor di text e si incavolava perché mi diceva ma cosa fai cavalletto non stai scrivendo Dilan Dog stai scrivendo text lui non chiede permesso quando entra in casa di qualcuno lui sponda la porta e mena tutti e poi chiede chiede permesso e infatti mi diceva mi raccomando cerca di di toglierti questa questa lui dava la colpa al fatto che ho scritto troppe storie di Dilan invece io ho capito che analizzandomi sono più affine a quel tipo di personaggio rispetto a un altro che è più abituato magari a essere un duro che mena le mani invece Dilan è più è più fragile no? è come diciamo che non è un detective perfetto anzi tutt'altro e questo ce lo rende più simpatico è abbastanza simbolico il Dilan Dog fatto dagli americani una decina di anni fa al film appunto che non c'entra niente esatto ma perché Sclavi creò un eroe che è un anti-eroe cioè se arriva qualcuno e picchia Dilan se le prende e quindi è frutto di una cultura di una sensibilità diversa sicuramente da quella che ha creato Tex cioè autorialmente si è lontani invece di nel film appunto era un'altra persona e non era l'aspetto perché l'aspetto è la personalità se tu sbagli la personalità tu hai davanti a te un altro personaggio non hai quello ed è quello che ha fatto parecchio arrabbiare anche i fan esatto Cristina Brondoni il discorso dei personaggi il lavoro del profiler è smontare pezzo a pezzo le persone giusto? non fisicamente quello è il lavoro di essere killer ok ok vorrei specificare che non smonto nessuno ok ok era una metafora su siate siate meno letterali siate meno letterali quanta analisi c'è nel lavoro di profiling e quanto è anche traducibile quanto si può raccontare in termini divulgativi perché una parte penso sia tecnica anche allora il profiling vabbè in Italia fondamentalmente non viene nelle indagini non viene utilizzato come non vengono utilizzate altre cose abbiamo visto ultimamente le indagini che insomma non sono andate benissimo questo perché c'è un un problemone sul fatto di l'indagine sta cambiando perché sta cambiando il crimine chiaramente quindi il crimine evolve non è più quello di una volta prima Roberta diceva se sbagli qualcosa quando scrivi di thriller rischi che poi ti scrivano alla casa editrice dicendo ma io penso che figuriamoci a livello reale perché abbiamo un sacco di gente che vede la cosa in televisione la legge nel libro e poi cerca di metterla in pratica questo non significa demonizzare chiaramente televisione quindi serie televisive film o libri o la cultura in generale ma tenere conto che quando uno lancia un messaggio può essere decodificato in qualunque modo in bene o in male quindi il ragionamento qual è che la gente legge che si informa tutti leggiamo tutti ci informiamo in qualunque modo e per esempio dopo la messa in onda di CSI nel 2000 si sono subito accorti del CSI effect cioè la candeggina come dire mi rompe il DNA e quindi ovviamente ho un problemone in America secondo Trump anche il covid rompe la candeggina è un toccasana la candeggina toccasana la candeggina se poi lo bevi se lo bevi no il problema per esempio nel covid adesso partiranno anche qua ci si chiederà anche qua che cosa è successo a livello di covid perché sai anche col covid io ero sicuramente in casa come tutti gli altri però la domanda era la vecchia nonna che mi è in casa eccetera chi è che mi dice che non è caduta tra il water e il bidet incastrata male ed è morta povera nonna e invece magari gli hai dato un ruzzone un bello spintone ma tanto nessuno ha fatto indagini in quel momento e durante il covid ci sono state più scomparse di persone pare adesso io non ho ancora le statistiche però io sono stata chiamata in mezzo ai 75 giorni credo otto volte e cioè dottoressa può venire in Toscana la finanza mi arresta appena arrivo all'angolo della via non posso uscire però effettivamente il crimine evolve quindi dato che il crimine approfitta anche molto di certe situazioni certo il crimine approfitta di certe situazioni a Milano appena è stata dichiarata zona rossa il mattino dopo c'erano in giro i truffatori che andavano di casa in casa dicendo faccio il tampone e prima di riuscire a far capire non aprire la porta ma perché la gente non cioè siamo tutti portati a pensare il bene fortunatamente fortunatamente a maggior parte a maggior parte io sono una brutta persona invece penso tu pensi male no diciamo che non penso male però normalmente appunto diciamo che il profiling lo uso anche per decidere tu sì tu sì tu no e c'è il politicamente corretto che ammazza perché perché l'idea è questa persona non mi piace però già da quando siamo piccoli così devi andare d'accordo con tutti devi dare una possibilità cioè se una persona non mi piace ci sarà un motivo non mi piace punto cambio marcia a piede non mi interessa la razza non mi interessa il genere non mi interessa niente se non mi piaci ho il diritto di cambiare marcia a piede non ho il diritto di darti una gomitata nei denti naturalmente perché qua siamo tutti d'accordo però ho il diritto di non frequentarti poi figuriamoci cioè io sono già sociale di mio quando hanno detto appunto il distanziamento sociale un metro un metro dobbiamo essere amici cioè se mi stai a un metro però perché c'è gente che si avvicina di più alle conferenze spesso e volentieri la gente che tocca il braccio ma dicevo avrei pensato quello ovviamente però diciamo che il profiling serve sicuramente per andare a vedere io faccio il profiling soprattutto per quanto riguarda i social network quindi l'indagine si basa anche su quello in determinati casi tipo c'era c'era un caso di una donna scomparsa sono state appunto condannate delle persone e se si andava a vedere il loro profilo pubblicavano sempre costantemente almeno 5 7 post al giorno il giorno della scomparsa di questa persona non c'è alcuna pubblicazione è un indizio non è una prova però naturalmente può servirmi anche da quello che pubblichi va bene anche come ti vesti cioè nel senso sono tante cose tanti elementi quello che diceva Andrea prima era il fatto di dire ok ti chiamano per Tex che non va bene perché sfonda le porte e non chiede permesso è profiling cioè quando ti accorgi che il personaggio dici però così non va bene non va è quello che dicevo prima fra in quanto ottobre funziona di uccido perché è fallibile perché ci sta perché sei umano perché può essere che una cosa ti sfugga se no diventa veramente il fumetto diventa Tex quindi un po' così quindi il profiling si serve peccato che non viene utilizzato per le indagini ma pazienza e tu hai dato una risposta hai scritto un romanzo a cui sta per uscire un secondo e qui posso anche facciamo il colpo di scena dico io intanto che è un ottimo romanzo si chiama voglio vederti soffrire e tutto sommato forse nel titolo la frase in prima persona ha qualche legame con io uccido c'è un la scelta di mettere addirittura come titolo una frase di discorso diretto hai un detective un profiler letteralmente adesso mi sfugge poliziotto si è un poliziotto poliziotto ok poliziotto classico hai messo un po' di puntini sulle i sulle tecniche di indagini si è un si è nato è nato come puro divertimento nel senso che io normalmente appunto mi occupo di omicidi suicidi in morti sospette e c'è un'enorme frustrazione perché ovviamente ultimamente è la terza volta che chiediamo di aprire un caso che è stato chiuso come suicidio di uno che si è sparato alla nuca due colpi no no due suicidio cioè anche no voglio dire non ci siamo cioè c'è qualcosa che non torna no però appunto nel romanzo ho pensato un po' di divertirmi con il fatto di quello che può essere la scienza forense il profiling eccetera tant'è vero che il personaggio principale viene anche abbastanza preso in giro per il fatto che dice magari usiamo lo profiling eccetera però diciamo che ho tentato di guarire un po' la frustrazione con con la fiction fondamentalmente e seguirà sbaglio o seguirà un altro esce il 10 di dicembre sì 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 esce il 10 di dicembre quindi hai già un titolo non c'è ancora non c'è ancora il titolo quindi sempre comunque per clown bianco edizioni clown bianco edizioni esatto sì 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 unica casa editrice che mi garantiva sei giri di bozze che ho detto vedi è buono sei giri di bozze sì di fatti non c'è posso dire non so se c'è scritto bene ma non c'è un errore quindi e ho azzeccato tutti i congiuntivi interessante questo per i profani l'editing è una cosa fondamentale ed è un'altra delle cose che insieme al profiling in Italia non viene tanto considerata e infatti io sono alla ricerca di case editrici dove ti clown bianco ti diano un buon editing perché l'editing fa veramente tantissimo la differenza la differenza tra uno scritto e un romanzo semplicemente quello io sono stato molto frustrato nelle mie prime esperienze di scrittura di narrativa perché sono uscite un paio di cose di cui mi vergogno ma semplicemente per il fatto che sono usciti due racconti che mi avevano assicurato mi avrebbero editato corretto e invece sono usciti non come li avevo scritti ma addirittura anche peggio quindi non faccio nomi non dico nulla infatti avete ragione mi fa piacere che l'abbiate detto perché effettivamente la figura dell'editor è una figura un pochino trascurata qua da noi infatti purtroppo sono poche le case editrici che possono permettersi degli editor anche bravi Giorgio ha avuto la fortuna nella sua nella sua carriera di scrittore di lavorare con degli editor bravissimi storici uno è stato Piero Gelli storicissimo proprio e l'altro Severino Cesari editor di Einaudi e Piero Gelli invece per Baldini e devo dire che effettivamente è un lavoro difficilissimo ma anche dal punto di vista psicologico perché tu editor devi arrivare da un autore da uno scrittore che è convinto di aver scritto il libro che sia già perfetto così e devi invece fargli capire che qualcosa non va che ci sono delle cose che vanno modificate ad esempio in Io Uccido che è già abbastanza voluminoso mi ricordo che ci fu praticamente una settimana faticosissima perché Piero Gelli disse a Giorgio che almeno 20 pagine andavano tolte da Io Uccido per Giorgio era una celesa maestà proprio 20 pagine ma non se ne parla neanche e poi con calma invece spiegandogli esattamente per quale motivo che cosa non andava bene e quindi ribadisco mi fa piacere che abbiate parlato degli editor perché veramente è un ruolo fondamentale proprio anche perché obiettivamente quando tu scrivi è come se tu avessi davanti tuo figlio e quindi cioè non vorresti toccare nulla di quello cioè ecco un bravo scrittore deve anche capire quando un bravo editore gli fa delle correzioni non è non è sempre così cioè conosco degli colleghi che si arrabbiano e preferiscono andare andare così senza senza editing e secondo me quando vanno così senza editing si nota si vede ma è un po' come la stessa cosa anche nel cinema cioè nel cinema ci sono quei registi che si definiscono autoriali e già di autoriale automaticamente a me mi viene un po' così ansia articaria quindi sono cioè fanno cinema d'autore quindi qualsiasi cosa hanno deciso è quella e va bene perché loro sono autori e quindi e poi tante volte invece no cioè tante volte poi saltano fuori cosa succede che saltano fuori le critiche e la critica a volte nota quelle cose che andavano cambiate che l'editor per lui gli aveva detto di cambiare e il regista ha detto no e allora cosa fanno i registi si arrabbiano con i critici quindi cioè è un mondo è un mondo difficile secondo me fondamentalmente il problema di alcune persone è l'ego quindi tanto più alto l'ego tanto più ti perdi di vista l'obiettivo e tanto più ti allontani da un certo tipo di realtà che è quello che ha anche Trump parliamoci no ho fatto il giusto profiling in questo però è molto interessante Giorgio che aveva avuto molte carriere professionali diverse molte dal successo di signor tenente a Sanremo a poi questo diventare sicuramente uno degli scrittori italiani contemporanei più influenti fosse solo per numero di copie di vendute e numero di volte che quel libro è finito nelle scaffali di tutti noi quello e i successivi come viveva però Giorgio il l'aspettativa nei confronti di quello che faceva e poi l'esistenza del libro del disco al di fuori della sua stessa partecipazione come attore nei vari film un momento poi che erano qualcosa di lontano da lui che non poteva più cambiare come lo viveva? Allora innanzitutto se qualcuno gli avesse detto che io uccido sarebbe diventato un bestseller nazionale si sarebbe preso una settimana per ridere perché non perché lo considerava ma giustamente com'è letteratura di genere quindi poteva anche pensare che fosse un buon libro ma niente di più ma poi fondamentalmente perché lui soffriva un po' di ansia da prestazione cioè non era non era ecco lui non aveva un ego così così forte da fargli credere di aver fatto il capolavoro ecco non è mai successo che lui avesse terminato un qualsiasi lavoro che poteva essere una canzone che poteva essere un libro non mai ha pensato di aver scritto il capolavoro ecco dovevano sempre essere poi gli altri a dirgli a fargli capire il valore di quello che lui aveva fatto e questo trovo sia una buona cosa perché mettersi sempre in discussione comunque ti consente di vedere quali sono i tuoi limiti e di lavorarci sui tuoi limiti se tu credi di essere arrivato è finita cioè da lì può cominciare solo la discesa e quindi quella secondo me è stata una cosa molto molto buona ecco molto bella del suo carattere e che gli è servita tanto nella sua carriera e poi il fatto di aver affrontato tanti ambiti artistici diversi era perché innanzitutto lui si definiva una persona golosa golosa nel senso di voler provare sempre esperienze diverse perché aveva bisogno di sentire proprio l'adrenalina che ci viene quando quando si è degli esordienti quando ti approcci a qualcosa di nuovo e quindi per lui quello era fondamentale ed è anche ed è soprattutto questo il motivo che gli ha fatto esplorare tanti ambiti artistici cioè quando lui sentiva di aver esaurito quello che aveva da dire attraverso quei canali che poteva essere la comicità quando poi ha smesso di andare in televisione o altri generi aveva necessità di cercare altri canali per raccontare il mondo che aveva dentro aveva bisogno di utilizzare altri mezzi e quindi questo è sempre stata la cosa importante per lui cioè trovare il mezzo che in quel momento per lui era il mezzo più congeniale per andare a parlare al suo pubblico a raccontare i suoi mondi insomma per chiudere un giro di battute a tutti per chiudere è un momento sicuramente strano anche difficile per tanti Giorgio si era risollevato da più di una caduta cosa secondo te cosa direbbe oggi di questo strano momento o un insegnamento che vorrebbe che ha dato allora per rialzarsi ma sicuramente quello che potrebbe dire che è quello un pochino che è successo a lui nel passaggio appunto tra i vari mondi che lui ha attraversato è sicuramente stato importante il periodo di stasi il periodo di fermo perché gli serviva per rielaborare gli serviva per cercare le energie nuove per andare un po' a riordinare insomma quello che poteva essere la sua vita in quel momento quindi sicuramente quello che lui farebbe in questo momento e consiglierebbe di fare e di sfruttare questo momento proprio per andare un po' ad auto psicoanalizzarci e provare a capire che cosa nella nostra vita in questo momento abbiamo la possibilità di cambiare in meglio quindi io credo che quello lui direbbe in questo momento Andrea sei d'accordo dall'abisso si sprofonda nell'abisso ma si risale ti potevo fare una domanda un po' più articolata però adesso l'horror ci serve tante volte a mostrare il fondo mostrare il punto più basso il punto più buio ma c'è sempre un'alba ma io credo che la terza metafora farà veramente cagare quindi scusate francese no sì io sono fondamentalmente una persona molto ottimista nonostante scriva le peggio cose nei miei libri anzi probabilmente trovo una valvola di sfogo io nei miei romanzi alla fine scrivo tutto ciò di cui ho romanzi ho scritto uno di romanzi mi sono già montato la testa nelle mie nelle tue storie vabbè sono ottimista perché in realtà ne ho già scritto un altro ne sto scrivendo un terzo quindi però diciamo che nelle mie sceneggiature nelle mie storie storie al tuo arco sono comunque tanti in tanti linguaggi diversi sì 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 non mi sono perso ti ho elogiato quindi figurati parli bene ah sì racconto tutto quello che mi fa paura quindi è un modo per cercare in prima persona di andare incontro a quello che mi spaventa e che in questo senso anche mi attrae mi affascina proprio perché non lo capisco cioè io sono il primo a non capirlo e quindi mi pongo delle domande per andarci il più vicino possibile e poi nonostante nelle mie storie tanta luce in fondo al tunnel non se ne veda nella realtà invece sì io credo che ci sia sempre il modo per assolutamente tirarsi su allo stesso tempo sono parecchio nichilista e molto incavolato con la nostra società e questo si evince da tutti i miei racconti da tutte le mie sceneggiature perché diciamo che noi esseri umani non facciamo mai una gran bellissima figura ecco ho la speranza che diciamo bacchettando le persone magari qualcuno uno due rinsaviscano e dicano ma sai che magari c'ha persino ragione sto fesso di cavaretto nel mio piccolo spero di fare qualcosa ecco ok Cristina ti la paura si può comprendere e si può vincere anche studiando soprattutto studiando forse allora partendo dal presupposto che la paura tiene vivi perché soltanto quelli che non hanno paura vanno appunto contro un treno correndo e la luce in fondo al tunnel secondo me sono le fiamme dell'inferno quindi tanto giusto per essere chiari no allora la paura secondo me va sicuramente vinta però il ragionamento è non andarsela cercare cioè non non mettersi nella condizione di quindi la paura va bene cioè nel senso è un sentimento corretto cioè vuol dire se c'è un terremoto in corso o una pandemia e paura cioè ci sta chiaro che le paure quelle che invece limitano tutto perché appunto è una paura che arriva così da non si sa dove uno può sempre fare un passo per provare ad andare oltre stante appunto che in tutto questo secondo me l'insegnamento dovrebbe essere se qualcuno non ci piace se non ci sentiamo al sicuro pensiamoci nel senso politicamente corretto ammazza il fatto che dobbiamo andare bene per tutti e per tutte le stagioni no cioè nel senso non è così e la paura è anche questo che non vuol dire avere la paura degli altri o del diverso di qualunque altra cosa a priori però di ascoltarsi cioè nel senso di dire se ho una sensazione un disagio o un problema devo andare a capire da dove arriva quindi è questione di conoscenza sì sicuramente resilienza anche cioè perché vincere la paura secondo me è difficile perché conoscerla conviverci cioè nel senso la puoi conoscere e ci puoi convivere quindi dicevo forse resilienza è più corretta ok grazie per la chiacchierata Andrea Cavaletto ancora un giro di applausi su Cristina Brondoni Roberta Bellesini grazie a tutti di essere stati con noi grazie a voi grazie Silvio e grazie al festival della biblioteca Archimede che è sempre un momento un momento un luogo per portarsi a casa qualche idea diversa qualche qualche spunto e qualche novità grazie 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 a tutti grazie a tutti